Il santuario della Madonna di Lourdes di Monguzzo Il colpevole torna sul luogo del delitto, come mai? Perché quando ci siamo stati ormai tempo fa non abbiamo trovato aperto e quindi non abbiamo potuto sembrare la nostra meravigliosa credenzia quindi adesso ci riproviamo Speriamo bene Speriamo bene Aspetta Ha creato con successo il primo timbro Si va alla caccia del secondo Si sale al santuario della Madonna della Neve di Pusiano Un chilometrino però per digerire una domenica pomeriggio ci può anche stare Secondo timbro della giornata L'hai avvistato? L'hai avvistato? Forse sul tavolino E' l'ultimo timbro da recuperare Quello del santuario di Val Madrera Che bellissimo Ed ecco qui Tembra Tembra Eccolo qui Issemo il computer Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui